Lei vuole molto bene, Adanna. Sì, molto. Lei ha mai parlato di me? Poche volte. Ma sempre con temerezza. Eppure si è comportata come se il nostro affetto mio, suo, del padre, in un certo senso, non le bastasse, non le servisse a niente. A volte io mi domando che cosa avrei potuto fare, perché tutto questo non accadesse.